Un negozio a vantaggio del consumatore, Aeomarket, via Keren 50, Castellaneta. Dal negozio Aeomarket potrai trovare un grande assortimento di articoli utili per la casa e prodotti alimentari di sicura genuinità ed ancora in offerta speciale tutti i pelati di qualsiasi marca. Ricorda Aeomarket, via Keren 50, Castellaneta ti garantisce qualità e prezzi equi.